Musica Ben trovati anche per la pagina sportiva del TG Noi, apertura dedicata al calcio perché c'è un altro sabato in campo per la Lucchese, sentiamo Guido Casotti. Il clima sembra decisamente più sereno alla Lucchese rispetto a qualche giorno fa, inutile dire che anche la squadra risentiva delle notizie preoccupanti che filtravano dall'esterno in merito alla vicenda dell'impianto di illuminazione del Porta Elisa e alle paventate minacce di non iscrizione al prossimo campionato. Ora che c'è stata la gognata schiarita, la truppa di Nano Galderisi può concentrarsi in toto sulle quattro gare che mancano da qui alla fine del campionato, fissato per sabato 9 maggio. Una per volta direbbe l'antico saggio e la prima della serie si chiama Ancona in casa, sabato pomeriggio ore 14.30 naturalmente al Porta Elisa. Partita difficilotta e molto importante che classifica alla mano può valere la gancia ai marchigiani che vantano 50 punti contro i 47 dei rossoneri. Galderisi conserva ancora un paio di dubbi sullo schieramento d'Oppore e Dorici, sostanzialmente si contendono una maglia da titolare, Calcagni risaliti in difesa, Raicevic e Scapinello in attacco. Detto che Mingazzini è squalificato, crediamo che il tecnico, ormai in forte odore di conferma, opterà per il seguente 11. Di Masi in porta, Calcagni e Specie Calistri non è in difesa, De Geri e Rossicco in mediana, Ferretti e Pagano esterni a sostegno di Forte e Raicevic. Il pallone racconta che all'andata, al del Conero si giocò di lunedì in notturna, la partita si concluse sul 2-2. Al tredicesimo del primo tempo Ancona è in vantaggio con Dorazio, sollecito il pareggio di un indemoniato Ferretti. Nella ripresa nuovo botta e risposta, firmato da Tavares per i locali e da Rossicco per i rossoneri. In realtà sabato un pari servirebbe solo e soprattutto all'Ancona. La lucchese vuol vincere, anche perché al di là della gancia in classifica, un successo avrebbe il forte e decisivo sapore di qualificazione alla Team Cup. Anche l'attaccante rossonero Mauro Costalli è stato convocato nella nazionale Under 16 di Lega Pro, che parteciperà alla trentesima edizione del torneo internazionale giovanile Nereo Rocco, che si disputerà dal 25 al 30 aprile a Gradisca di Sonzo. Costalli, dunque, la cui convocazione si aggiunge a quella del difensore Pierluigi Montanaro, farà parte della selezione azzurra che nel girone di qualificazione affronterà Udinese, Atlas, una squadra messicana, e poi il Rieica, formazione che arriva dalla Croazia. Già li avete intravisti nel servizio dedicato alla prima squadra della lucchese. Parliamo dei giovani, giovani votati all'interno del referendum Oscar del talento, che hanno disputato questo allenamento speciale insieme ai giocatori veri della lucchese sotto la guida di Giuseppe Galderisi. Una giornata a dir poco speciale, calcando il mitico prato del Portelisa, allenandosi insieme ai giocatori della lucchese sotto la guida di un grande campione come Giuseppe Galderisi. E' quella vissuta da una decina di ragazzi, protagonisti della prima fase dell'Oscar del talento, il referendum promosso dalla Nazione Noi TV. Questi giovani, che sognano di diventare calciatori, hanno avuto l'opportunità di disputare un allenamento con la prima squadra della lucchese. Un'idea lanciata qualche settimana fa da Paolo Bottari, ideatore e coordinatore del referendum, subito accolta dall'allenatore Giuseppe Galderisi, che con i bimbi e i ragazzi ha un feeling davvero speciale. E' una gioia, è una gioia vera perché mi ricordo quando ero piccolino io e sognavo di diventare un giocatore, e quando incontravo e avevo la possibilità, grazie a campioni del momento, di poterci parlare, sono cose che mi porto dietro, perciò quello che riusciremo a fare oggi, quello che cercheremo di fare oggi è proprio quello che mi riporta un po' indietro. Sono ragazzi che sognano e noi dobbiamo continuare a farli sognare con la nostra allegria, con la partecipazione, adesso sono lì che fanno un po' di torello con i ragazzi, vediamo anche di farli tirare in porta, vediamo di farli fare qualcosa. Insomma, sono iniziative belle perché credo che si parla tanto di giovani, ma poi alla fine nessuno inventa niente per migliorare questa situazione. Perciò complimenti a voi e alla nazione che avete fatto questa iniziativa e noi faremo di tutto per sostenerla. E vi ricordo i tagliandi del referendum ogni giorno pubblicati dal quotidiano La Nazione. Parliamo di basket, partiamo dalla C-Nazionale, il Bama tra le muramiche in questo sabato sera al Palabrigio di Ponte Bugianese, l'avversario è la capolista San Mignato, ormai certa del primo posto in classifica e conseguente qualificazione agli spareggi per la Serie B. Un match dunque che in teoria dovrebbe essere divertente, senza estremi tatticismi tra due squadre che non hanno più nulla da chiedere a questa regular season. Per la C-Regionale, l'ultima partita della stagione regolare per la Genova Lucca, che in questo sabato 18.30 a Palatagliate affronta il fanalino di coda Fides Montevarchi. Già retrocesso da tempo e a secco di vittorie da 10 partite. Un turno che si gioca tutto in contemporanea e al termine del quale sarà stilata la griglia dei play-off. È tutto per la pagina sportiva del TG Noi, una breve pausa e poi la terza parte del telegiornale.